Grazie, grazie. Abbiamo fatto una piccola riunione l'altro giorno e abbiamo deciso di provare, anche se non sto ancora pronto. Comunque è una partita importante, è un derby, alla fine è inutile nascondere. Quando è un derby tu un pochettino di più ci dà, li dà sempre. L'importante è che tutti insieme siamo riusciti, anche io, con i miei minuti, a dare una mano e prendere questi tre punti per la classifica, che sono importantissimi oggi. Tanto perché già eravamo fermi per questo fatto del Covid e allora mi mancava tantissimo, non soltanto la partita, più che altro anche durante la settimana, perché noi ci alleniamo tutti i giorni, è un lavoro per noi, no? Io non riuscire a fare il mio lavoro. Comunque il giocatore si sente anche un po' in difficoltà perché ha iniziato la stagione, non ha fatto manco una partita, i ragazzi ne stavano giocando in pochi, alla fine anche per il fatto di Edo all'inizio che non siamo riusciti a tesserarlo. Allora tu vedevi che i ragazzi erano comunque in difficoltà e tu non potevi aiutarli perché anche se diceva io voglio aiutare, voglio dare il mio, ma tu non ce la fai perché c'è un ginocchio che non va, allora comunque mi è mancato un sacco, sì. Io credo che non ci dobbiamo mettere i limiti, noi dobbiamo fare tutto per il bene, lavorare per il bene, fare le cose per il bene, lo so che oggi è difficile anche per il fatto del Covid, però dobbiamo dare tutto il massimo nostro. Io credo che possiamo arrivare lontano, poi può capitare anche una quarta di finale, tu prendi un gol stupido, una semifinale esci, o può dare scritto, tu quel gol va in finale. Cioè questo sport qua è molto, è difficile dove puoi arrivare. Comunque anche le altre squadre sono piazzate bene in Italia oggi, ma la nostra squadra è fatta bene, l'importanza è che noi siamo convinti come oggi, siamo andati sempre in difficoltà, durante la partita, qualche momento in difficoltà e siamo ripresi. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, ma ci vuole. Io credo che con la fortuna, l'impegno e le cose fatte bene noi possiamo arrivare lontano veramente. È capitato, sono stato anche fortunato, quella palla è rimasta lì in mezzo e ho aspettato che Moritieri faccia la sua scelta, poi ho fatto la mia. Noi stiamo facendo terapia tutti i giorni con Luca e stiamo sempre attenti. Oggi quello che potevo dare era questo, perché non sono ancora pronto, stavamo dicendo. Al ginocchio, non potevo usare il destro, solo per fare qualche passaggio e alla fine... Il ginocchio che ti porti da... Dall'inizio della stagione, comunque era un insidamento ai collaterali, è un infortunio molto rognoso che ci vuole tempo. Rischiamo proprio di rischiare una partita, di farsi male e rimanere altri due mesi fuori, non possiamo correre questo rischio. Vediamo nelle altre partite, io credo sì, da adesso in poi qualche minuto sempre in più dovrei fare. Stiamo facendo a posto questo lavoro per fare sempre qualche minuto in più finché arriva la forma per poter aiutare veramente i ragazzi.